Arezzo subito in campo dopo il pari di Pistoia. Il day after si è aperto con una seduta di allenamento sul sintetico del Buon Conte da Montefeltro, al quale hanno preso parte i giocatori entrati a partita in corso e quelli rimasti a riposo. Insieme al gruppo anche gli squalificati, Sirri e Moscardelli, con il capitano che ha scontato le due giornate di squalifiche e tornerà a disposizione dalla prossima partita interna con il Piacenza. La testa è già alla sfida con il Tutto Cuoio, in programma mercoledì al Comunale alle 14.30. Sottili ricorrerà ad un ampio turnover, spazio quindi a borra tra i pali, con la difesa formata da Milesi, Sirri e Sabatino, e probabilmente anche Ba a destra. In mediana toccherà Corradi, Rossetti ed Emba in attacco a Berzotti, Moscardelli ed Erpen. Per quanto riguarda la prevendita di Arezzo Tutto Cuoio, l'unico settore aperto dello stadio sarà la tribuna centrale e laterale, con biglietto a prezzo unico a 10 euro. Fino a 10 anni di età, come sempre, l'ingresso sarà gratuito, i tagliandi potranno essere acquistati soltanto alla biglietteria principale del città di Arezzo, a partire dalle ore 13 di mercoledì. Arriva una buona notizia anche sul fronte degli allenamenti, l'Arezzo potrà sfruttare anche il campo Bruno Nespoli. A partire dalle ore 10 di venerdì, l'Arezzo potrà allenarsi sull'impianto sportivo al centro di una battaglia a sondi carte bollate e avvocati che ha condizionato la scorsa estate. Sarà a disposizione la prima squadra fin dalla giornata di venerdì, visto che Tuscar e Petrarca hanno consentito ad ospitare l'Arezzo. Il programma di allenamento prevede in questa settimana sempre allenamenti al mattino, sia giovedì che venerdì, che nella mattina di sabato, quando l'Arezzo svolgerà una rifinitura a porte chiuse all'interno del comunale.